Noi in regione Lombardia non vogliamo nessun clandestino e non metteremo a disposizione nemmeno un alloggio per queste persone, perché le case, gli alloggi che ci sono sul territorio pagate negli anni dai Lombardi vanno ai Lombardi, vanno solo a loro. Ma un'altra questione, ci hanno chiesto dateci le tende, perché loro con il loro spirito cristiano adesso vogliono fare le tendopoli perché con 40 gradi mettere sta gente sotto le tendopoli è uno spirito di carità. Allora hanno chiesto alla protezione civile, io la delega alla protezione civile, ci hanno chiesto di utilizzare le strutture. La nostra risposta è stata no, le strutture della protezione civile, le attrezzature della protezione civile servono in caso di emergenza, noi ci auguriamo che non succeda niente, ma se in Lombardia arriva una tromba d'aria come quella che è gestata in Veneto, noi abbiamo bisogno di strutture per i nostri Lombardi e anche lì abbiamo risposto no, nessuna attrezzatura della protezione civile per questa gente.